Si è conclusa la presa d'ostaggi nell'albergo maliano, nella località di Sevarè, a circa 600 km dalla capitale Bamako. Un comando di assalitori era penetrato nella struttura, nota per ospitare molti stranieri, questo venerdì alle 7, ora locale. Poco si sa dell'operazione, i termini usati dai militari sono propri del vocabolario tecnico. Forze maliane e straniere avrebbero bonificato l'hotel. Sevarè è un centro strategico dotato dell'aeroporto più importante della regione, utilizzato anche dagli eserciti francesi e maliano per le operazioni nel Sahel, territorio funestato da presenze terroriste. Le autorità venerdì sera avevano parlato di 7 morti, 5 fra i soldati maliani e 2 fra gli assalitori. Altri hanno parlato di almeno 8 morti, senza specificare però l'origine delle vittime.